L'interrogatorio della Minutillo emerge che lei stessa ammette che dopo la gestione Galan, quando è arrivato lei, le cose relativamente a mose e tangenti era cambiato tutto. Beh, direi che io ho fatto semplicemente quello che dovrebbe fare un buon amministratore, porta la sua linea amministrativa, che è stata quella del rigore, del controllo anche a volte molto certosino delle pratiche, delle carte e soprattutto di impartire direttive agli uffici e un po' tutta la macchina, quindi il che significava non creare comunque in senso generale il substrato. Fermo restando che in questi quattro anni abbiamo e ho presentato un centinaio di denunce e di esposte alla procura per altri fatti non riguardanti questo, ma che comunque sono segnalazioni come sono state fatte. La cricca è emersa nelle indescrizioni giornalistiche dei giorni scorsi, la viveva un po' come un guastafest? Guardi, questo l'ho evinto anch'io come sorpresa nel leggere magari dei frammenti di intercettazioni o delle dichiarazioni. Penso sostanzialmente che non sia fatto nulla di straordinario se non quello di pretendere che si applicasse la legge e anche fare in modo che comunque le procedure fossero tutte trasparenti fino in fondo. Forse qualcuno si è preoccupato e oggi leggerlo mi dà anche soddisfazione. Tra i dirigenti sospesi immediatamente non appena resenoti gli arresti, questa sarà la linea che proseguirà anche in futuro, a qualora emergessero altre cose. I processi si celebrano nei tribunali, per cui non spetta a me fare processi. Spero che tutti gli indagati abbiano la possibilità di chiarire la propria posizione e soprattutto negli interessi dei Veneti, della comunità del Veneto per tutto quello che si dice ed è accaduto. Dall'altro ovviamente rigore ancora, legalità, il minimo sospendere da subito i tre dirigenti e l'azione di sospensione delle deliche dell'assessore che peraltro c'è da dire si è dimesso con un telegramma direttamente la mattina stessa dei fatti. Rivedrà i magistrati della Procura, Presidente? Beh, questa è una partita che non le so dire, noi siamo a disposizione ovviamente anche a 24 della Procura e questa è un'amministrazione che vuole essere un'amministrazione con le pareti di cristallo, anche degli edifici in modo tale che sia trasparente al massimo, per cui sanno benissimo gli inquirenti che qualsiasi carta, qualsiasi nostra disponibilità è totale.